Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un video, sono Vinci il Pro di PS4, anzi una nuova live Ciao ragazzi, vi volevo dire una cosa che è... Forse chiuderò il canone Vinci il Pro, quello principale Vinci il Pro di PS4 no Comunque ragazzi, vi volevo dire una cosa bella, è una cosa brutta, una cosa bella è che è Buon Natale Siamo Buon Natale, già il Natale è passato però Anche tanto Stefano, tutte le feste sono passate Non tutte, perché ancora c'è Capodanno, c'è l'Epifania, tutte queste cose Ragazzi, vi volevo dire Tanto Fortnite è bellissimo questo aggiornamento È veramente bello Ma qua è la prima che succede? Cosa? Guarda che bello questo Che? Che è successo? Perché si è bloccato? Ragazzi, ragazzi Comunque ragazzi, vi volevo dire anche Voi scrivete nei commenti Cosa avete ricevuto per Natale Ora vi dico cosa ho ricevuto io Allora, ho ricevuto Le iPads Huawei E la tastiera quadra gaming Quindi io l'ho aperta e non ho detto niente Non è prima di nuovo Ho scoperto una cosa Che se questo tasto è più quello Si illumina Troppo bello Allora Questo albero, ragazzi Ho sognito di dire Che questo albero Dà una Quattro skin O una skin Dipende Non lo so Io non so Per crederci I miei amici pure Non hanno detto Io l'ho giocato E me l'hanno detto pure Anche ragazzi Vi devo dire una cosa Ora andiamo a fare Della partita Mentre Faremo quella partita Vi spiegherò Il motivo Perché vorrei Chiudere il canale Ma non mi dà niente Ma è cattivo Quali c'è mezzo inverno Allora Guarda il rifugio Perché non mi è stato niente Mi sono rimasto male Ragazzi Comunque Aspettate un secondo Che mi cambio il piccone Perché non mi piace Questo tanto Quando c'è la skin Ragazzi Che l'avevo shoppata Un sacco di tempo fa Insomma All'inizio di dicembre Prima apparizione Stagione 1 Due skin Apparizione Stagione 1 Questa Che l'avevo shoppata L'anno scorso Alla vigilia di Natale Quando aveva shoppato Il pacchetto 0 Poi c'è questo Che deve soggiorare Uno che l'avevo shoppata All'inizio di dicembre Diciamo sì Questo copertone L'avevo shoppata L'anno scorso Forse prima di l'anno Prima della vigilia Non mi ricordo bene Ma non è importante Comunque ragazzi Aspettate che metto Previsi privata Qua Tanto Non so Non so se ero Non ero deciso Se dirvelo di Natale E farvi A chi piace Vinci il pro Rovinare un po' Il Natale Ma dopo Natale Non vi voglio rovinare Niente Tanto non mi interessa Questo è lo stesso rumore Vabbè Dicevo non vi voglio rovinare Niente Perché niente Non mi interessa a nessuno Avete capito? Che bella questa musica Molto Ehm Come si dice Natalizia Ecco Perché ho messo coppia? Coppia non riempire Ho messo Io che da stile Sono così scarso Vabbè Facciamo una partita Con la tastiera E una partita senza Iniziamo con la tastiera Vedete Iniziate col controller Che il controller Sono I controller Sono molto più forte Con la tastiera Sono molto più scarse Vabbè Sempre molto Cioè Quindi significa Che è una cosa Buona No No Qua Ci sono i clacson Nella macchina Nella macchina I furgoni Vabbè Sedia Grazie Ok Ragazzi C'è un tasto del mouse Che Mi fa Mi apre La cosa per costruire Più il muro E l'altro accanto Quello per la scala Sono a livello 95 Perché non ho giocato Per molto tempo Dall'altra volta Tutte le settimane Ho giocato Però Prima di queste Tre settimane Per due settimane Non ho giocato Quindi Quindi Liollo Il basso Era rimasto Il livello 60 Ora sono al 95 Marce Il livello 127 C'è C'è un amico Che è il livello 219 Ma perché Atterrò qua Perché sono Scassissimo La tastiera Se tolgo il controller Li vedete Con i tasti Ma siccome Ora Ho usato La tastiera Vedete La tastiera La tastiera Che sono La tastiera Non mi credete Ah sì Mi sembro forte La tastiera Allora Vi ringrazio Ma non è così Oppure C'è gente Che praticamente Mi sembra Che sono forte La tastiera E pensa Ma sto giocando Dalla controller Quindi c'è La scarsa La tastiera Gioco da controller Sicuro Le odio Sta tempesta Di nebbia Le odio Le odio Quasi sempre Quando sono Bergo Bislacco Capitano C'è La sta capitando Comunque ragazzi Ora Parliamo Perché Guardate ragazzi Aspettate Se tolgo Questo tasto Mi apre questo In realtà Aspettate Se tolgo Ok Ok Se tolgo Altra Mi apre questo Bisogna partire Da controllo Nella prossima L'artita Mi vedete Molto più forte Penso Ma forse Che Che non vivo Così tanto Nell'altra partita Perché Ora sono da controller Ragazzi Dovete sapere Che io Amo Fightare Con gli altri Ora sono da controller Ora sono da tostiere Amo camperare Non è Non è Non è Guardate Che è il filo Del mouse Ok A posto Oh Ok Guardate ragazzi Ma le maniche Mi hanno fastidio Le maniche Mi fanno Svegliare Passi Oh Non c'è gente Le spade Ragazzi le spade Tutte mie Tutte mie No le voglio verdi No ci facciamo le shield Non so ragazzi ma voi l'avete visto l'evento? Scrivetemi nei commenti se l'avete visto E iscrivetevi anche se Il mouse mi stava cadendo Ho fatto un salto Scrivetemi Aspettate che mi Mi do una fastidio e una maniche Ok Allora Dicevo Scrivetevi anche nei commenti I regali che avete ricevuto per Natale E cosa Se l'avete visto le L'avete visto ragazzi L'avete visto Lì dove sto mirando 20 Ma raga Sono così scherzo la testiera L'ho hit Se lo killo Proprio Mi metto a piangere Sono emozionato Se lo killo Piango ve lo dico Se lo killo Non mi vergognerei a piangere Se lo killo Ma è scarso questo però Se non ho più forte mi pushava Spero che non hai il pompa Spero che ha solo il cecchino Così se lo pushi col pompa Ho la possibilità Al 1000% Di poter vincere Spero che hai rimasto L'ultimo colpo di cecchino E me 20 di pompa E vabbè Ma comunque ragazzi Avete visto Mi sono Ho cambiato come un nabbo L'ho fatto L'avete visto Non so se l'avete visto F'ha fatto così Brutta figura Che faccio Ragazzi con gli altri Ma brutta figura Di quelle Comunque questo Era un nabbo Altrimenti non lo killavo Ve lo dico prima Lo dico prima Così Capite che io Dall'altro stile Sono un nabbo E che da controller Sono un pro Non l'avrei killato Se ero da controller L'ho creata Molto prima Con l'assalto Comunque il loot Lo voglio così Ma almeno C'è chi non ce l'ha carico Non so Aspetta Le carichiamo Ma ce l'ha carico A post Gli colpi Sono del pop Ma sono sempre 8 Sì Almeno Sì Sempre Nell'assalto Sempre 30 Che non lo sa È un nabbo Nato Se io metto Il 3 La sensibilità Nel mouse Bassa Ma bassissima Di quelle Dei bassi Dei bassi Questo punto Mi muovo lento Ma se muovo le mosse veloce Non muovo lento C'è L'ho muovo lento Ma se muovo le mosse veloce L'ho muovo lento Vabbè La sensibilità Sempre scarsa No Troppo scarsa La sensibilità Del mouse Poi se l'ho alzo Non so feitare Infatti Infatti quando bulldo Devo fare Di 4 Tipo 4 Mu Di un muro Enorme Mi viene troppo male E' proprio perché La sensibilità è scarsa Ora ragazzi Ci accovacciamo Facciamo Un muro di ferro Così cambia materiale Non mi ricordo Facciamo un muro di ferro Aspetta Lo cambio da controllare Perché non mi ricordo Ok Allora Stanzioni Sensibilità Sensibilità Mira Sensibilità Appuntamento Sensibilità Mira L'alziamo Sì Ho salvato le impostazioni Vediamo No Allora Questa Vabbè Questa Questa L'alzare Magari Al 70 Ok Applica Lasciamo Ok Ora Difficilmente Più E magari Non lo so Se si muove più lento Non so Se ho fatto bene Ragazzi Di te mi se ho fatto bene Nei commenti Ma per entrare E' facile Per uscire Difficile Ora 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 Devo fare un'altra cosa Da controller Questo No No Sì No Sì Ma Non mi ricordo Come si fa Ma Non si fa così Dal mouse No Quindi lo facciamo Dal controller Dio Dio Sì Sì Ok Non so Se hanno tolto La cosa Che il materiale Che si mette automatico Oppure Quando il materiale Finisce Che si mette automatico Se deve costruire ancora Non so Se l'hanno tolta Secondo me Questo lozzo Serve per attirare Voglio Ragazzi Questo pompa Anche se fa Un danno Spammone Si dice Quindi Dai Scappiamo Non so perché Per la piena Tanto non mi sentono Scappiamo Ma anche se mi piace Trova di più quello Ma cosa spammone Ragazzi A me mi ci danno Sempre col pompa Spammone Lo chiamo pompa Spammone Non so che tutti Lo chiamano pompa Spammone Vabbè Ma comunque Oggi siamo in 29 Payer Ma io ragazzi Vi dovevo spiegare Sbaglio O vi dovevo spiegare Il significato Perché vorrei Chiudere il mio canale Non lo dovevo spiegare Quindi ragazzi Scusatemi Se non me l'ho spiegato Ma Beh Lo spiegherò Ora Allora Ragazzi 299 Direi Di D1 Allora ragazzi Ve lo spiegherò Guarda Prima fatemi Paitare Ricosti da coppia Guarda Scorso che Ricosti da coppia La bulta La bulta Bulta Vinci Che fai Io prenderei Io prenderei Il controller In questi casi No Da sopra Vabbè Quindi Allora Vi dicevo Lo vorrei chiudere Perché Tanto il computer Ora Ora Da contato Sta Devo fare Comunque Il computer Non mi permette Più di Fare I video Non me la permette Più il computer Non mi permette Più di fare Di pubblicarli I video Di fare Si L'ultimo L'ho pubblicato Ma era Era copyright Il solito copyright Ora Questa Lo spacca Si rifà Lo shield Perché L'avevo Hittato Io avevo fatto Un 105 Ci sanno pure Il trucco Ora ragazzi Già Viene Una controller La sostiera Sostiera Scusami Ma Devo abbandonare E poi Ragazzi Le like Sono sempre Gli stessi Le visualizzazioni Sono sempre Gli stessi Anche di mano Ai commenti Zero totale Zero Spaccato Di quelli Spaccati Sto cliccando Però Nostra Nel mouse Vabbè Ora ragazzi Vedete i comandi Che sono diventati Da controller Ma io ho messo Di nuovo Preparati Ma sono le due Queste Vabbè Andate Ho fra il mare Altro Tre Due No No Ci sto arrivando Che ha messo Metto sempre Le due Le mie hanno ucciso Perché erano in due Quello Quello era uno L'ho ucciso io Grazie Comunque Io ho fatto Un centocinque Mirando così Io che faccio Centocinque Da nostra testiera Significa Che sto diventando Un po' forte Significa Mi spavento Se quella Mi fa danno Mi spaventa Tipo la tempesta Tipo che Il cubo Mi fa danno Ma il cubo Fa saltare Non fa danno Ma cosa Dico io Vabbè Se gli spari Poi ti fa danno Da quello che so Poi se hanno aggiornato Pure le leggi del cubo Non mi posso dire altro Se hanno aggiornato Pure le leggi del cubo Del cubo Leggi del cubo Armi gratis Ce l'hanno Ce l'hanno Ce l'hanno Ce l'hanno La cesta Un pompa Quindi Non ci dobbiamo Meravigliare Se attiriamo La gianta E non la chiudiamo Non è singolo Due Il pompa Mi prende Non lo voglio Se la stessa La prende Io Andrò A prendere Un assalto Stavo adottare Ragazzi Togliamo il lobby Poi ragazzi Io mi arrabbio Anche per questo Dicevo Che Perché voi Non mi Non faccio sempre Le stesse cose I like Sempre Sempre O tre O quattro O sei La Se vi chiedo Di arrivare a dieci Anche per sogno Il video che ho fatto Più like Il terzo video Del canale D'oggi D'oggino Fatti Scusate Quindi ragazzi Mi arrabbi Per questo Perché non lasciate Troppi pochi Like Allora Vogliamo il tuo feedback Qual è la tua Dotazione Della granata Nella battaglia Relle di fortnite La granata 5 Molto positiva A me piace La granata Oh Fate ragazzi Che mi mandano Passaggi Ma io non posso Rispondere Mentre faccio Una live Chi ho Davide Questa Letter Grazie Grazie a tutti. 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 Marco, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Peccato. Grazie a tutti. 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 I giochi. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. aprire io potevo marci questa cosa ancora non è la casa marcia sta guardando la live lo scopre e dico ragazzi io potrei aprire uno dei vostri tre regali per poi andare a finire questi invece io l'ho voluta andare a sprecare perché mi pare giusto avere una skin però io potevo avere due skin facendo quello prendendo quello più grande e sprecando un regalo di là ma ho voluto questo skin per il soggetto che fa l'altra partita dai resti era che è rimasto il live davido marco tutto 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 la testiera che si illumina zero persona di master life sono dimostra solo torno da solo tutto tutto l'elemente sola uno due tre quattro cinque 6 ciao ciao gli piace la mia skin a ver bico che vi piace Skin gratis si chiama Allora, io senza skin glielo dico a tutti Ma sono quelli che prendono il pass battaglia Spero e penso di no Perché altrimenti i miei amici non la possono aprire Vabbè ragazzi Io voglio di fare da contogliere per la vostra partita Quindi ragazzi Andiamo in quella spiaggia In questa spiaggia Andiamo qui perché ragazzi In quella spiaggia C'è la neve quindi Ci raffreddiamo Adanti pure qua Ci Vinci Troppo A vero ma ci sono evitato E' diventato tanto per Non è vero che sono pro Ma io parlo con il muro per Zero spettatori live Ma stiamo scherzando Devo mettere la La cosa C'è Prima devo fare una live Fra poco sta piacere una live Ah ok Avete visto ragazzi Ho aperto la chest L'arma non è spuntata Sono colpi e bang Che bug di fortnite Guarda ci vedo credendo sempre di più nei bug Quando mi dico la mince E' uscito E' uscito un nuovo bug Troppo scarso Sono troppo scarso ragazzi Stai vedo cosa significa Che sono troppo scarso Troppo scarso Già l'ho detto Facciamo finto di niente Questa partita Me la potevo vincere Potevo vincere E' uscito Andato a perdere Questo giamone Del tavolo Tavolino Gita Vabbè ragazzi Ora andiamo in Zero Wars In Singalos Vabbè non so Andiamo in singalos Comunque io sta quest'altro lo sapevo dire Cioè gli altri che mi hanno detto Ma io ne rifugio c'è un albero Ma io non so in quale albero Cioè dico Vado a prendere il rifugio C'è pieno di alberi Invece sono andato là dentro Ho pensato là E l'ho trovato Non so se la potevo sbagliare Questa cosa è una cosa bella Io non ci non posso fare la live Almeno mi fai di dare Mi fai di dare i video Davide Ti ho dato il numero di Marci Ti ho dato Ti ho dato il numero di Marci Parla con lui Chiamalo 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 Hai il telefono per cosa? Per giocare e fare i video? No anche per chiamare Ho sbaglio Chiamalo Non parlare con me Poi non dire sto cosa nella live Che poi Sembra Gli altri chissà che Niente ragazzi Posso chiamarlo? Sì Vedete il numero Questa bingo Mamma mia Comunque non giocherò da tastiera Per fare la zone wars Farò qualche partitina Ma È impossibile fare la zone wars Con la tastiera Ma dica che scherzo È se si arrabbia No Io Mi ha detto Io Adesso Ti ho dato il numero Mi ha detto Sì No Io le ho il mio numero Non si arrabbia Dai Non fare il bambino piccolo Che dice che si arrabbia Mi sa Non ti nomi di bingo Avevo Questa zona Forse mi piace No Ho già sbagliato Ho più appena iniziato Ho già sbagliato Avete visto? Avete visto come Dai Dai Non vado più una Non vale Non mi ha dato a fare questo Guardate 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 Ragazzi 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 Ho riuscito a vita Ancora non ho stato andato a uno spar Questo significa Ragazzi Sprecare Sprecare cure Inutilmentissimamente Anche Ma questo è un 99 di danno Fa 23 metri 99 di danno Guardate come c'è morto questo 23 metri 99 di danno Fa Non c'è Sbaglio 25 metri Fa C'è 24 metri Vabbè Vabbè Mi salita Tipo sempre Secondo Una vittima Mai L'ho fatta Skinny Questa C'è C'è Del pacchetto Quello Di 5 euro Quello Quello Che c'era Prima Non mi ricordo Vabbè 150 Non divita in totale Questa La mia skin Lucia La vera che Sicuramente L'ho rasurato Sicuramente Questo regalo Così Comunque Dalla skin Di questa Di qua Qualcuno L'ho rasurato Sicuramente Questa Le piramidi Deve fare Se lo fanno Cadere Mi metto A piangere Proprio Perché Poverino Questo Lo fanno Cadere Resgo Salui Por saltarella Posso La lupina Va a pushar Rimasti Non vio Uno No Uno Vio Uno Vio Uno Ok Uno Contro Uno No Ancora C'è Ha vinto Ha vinto Questo Questo Dico Ha vinto A tutti Quelli Vesbeto Uno Un lab Davanti C'è Quelli Con Ci Si E' Fasile Lettarli Perché Sono Amario Magro Le skin E' Il colpo A me Sembra così Non so Vabbè Poi Ognuno Pensa come Deve pensare Dai vinci il pro Sei troppo pro tu Così mi hai detto l'ultima volta Non è che mi hai detto Sono troppo nava Mi hai detto sei troppo pro No Ah vero non può Non può fare Guardate ragazzi come sbaglio Mi sono salvato per la mano Non penso che prendevo danno Io sbaglio A volte perché C'è il braccio messo male Quindi Io ne vado ciao Ciao Bene Davide ha una macchina Io ne ho sposto Io sono caduto da 30 metri Sono un re delle cadute Io l'ho detto Sono un re delle cadute A 30 metri sono caduto Mi rendete conto Davide può andare a vedere Come sono caduto Davide comunque Penso che mi hai detto Che c'è il telefono scarico E lo spaccato E lo spaccato il tutto Non sono accorto Guardalo Questo è quello che vince sempre Allora controllo Ti devi mettere così Quando dobbiamo giocare Bravo Ma non c'è lo spazio leggendario Lui è quello epico Quello là non c'era Quello leggendario Perché non lo uccide quel po' Ma questo è un app Infatti Però per te li posso Per me sì Ma io devo chiedere a lui Davide ha Ma no Ma no Per me li puoi ditare Ma a lui Gli devi chiedere Altrimenti non puoi Gli devi chiedere Sempre a lui Davide Vabbè Davide Senti che fai Agita lì e basta Dai Agita lì E non mi disturberai più Perché mi è secca Ma Giorno Non è che comanda lui Come di su se li puoi ditare Tu li puoi ditare A posto Davide ha Agita lì Senti Guarda la live Ti puoi ditare Per me Ti puoi ditare Sono uno contro uno O uno contro uno Contro uno E devi dare guarda sta live Che cacchini agiti poi Italiano Italiano Grazie 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 cucino Ti voglio a mano Ti voglio a mano Non è che cacchino Ora Questo è fortuna Ragazzi Oddio che fortuna L'idea qui c'è un'ora di live Sei il mio amico così sempre Sì sì Davide tu mi dici così ma poi Qui te ne venti mi dici Vabbè Però no mi dici così perché lo vuoi dire Ma non è vero perché poi tu Dici sempre queste cose ma alla fine Non vanno meno Ah vuoi morire invece di spararmi Ma vuoi morire invece di spararmi Adesso so forte Non è che Poi pensate a mora di me Scusa almeno muore il mucello che mi spara Amore Ma si sbriga Si suicidano Ovviamente Compressivamente Innubbiamente Mente Ragazzi Chi è nabba Basta la mano Ho detto una cosa a caso Chi è nabba Il salamano Secondo Secondo me Voi siete nabbi Secondo me voi siete migliori Invece Quasi più materiali Serve del loot Devo killare a qualcuno Devo killare per forza Ho bisogno di killare a qualcuno Per il loot No 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 Posso spaventare Solo uno contro uno contro uno mi sembra Vabbè Ce la vorrei dare il video per stasera Ok La vita torna a vedere la live Ok Ok da vita Non mi sembra Quanto mi va di giocare 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 No Ma questo è un hacker Ragazzi No, no, voglio vedere il replay della live Cioè, aspetta, quello ha sparato a quello Quello è morto, mi sembra Hai solito visto questo? Ho vinto E ci vuole che ogni tanto quello perde E ci sta Non ho sbagliato Ho spaccato tutti i colpi Ho delle cure molto belle Il primo invece è molto per cure Allora Il primo invece mi piace molto per cure È la mia cura preferita, diciamo Questo ha solo molto fortuna Scappa, scappa, scappa Sono full vita Sono full vita Sono full vita Sì, sto, io sto facendo una live Sono morto ragazzi, sono morto, sono morto Sono morto Sì, sto, io sto Sì, sto, io sto Sono perfetti per riempire Però Vabbè Tutte cose Non si Devo fare andare in safe Deve imparare questa cosa Non si Deve imparare Ehi, lei si è tornato Perché ho uno spettatore Guardi Guardi È morto Ho vinto Il cretino Poverino Però Vabbè Che lo sono Molto interessante Quindi ragazzi Davide saluto alla live Così ti sentono tutti Dall'idea dei commenti Ti vedono tutti Vabbè Quindi ragazzi Spero tanto che questa live vi sia piaciuta Un saluto Andiamo a lasciare un bel like Iscriviti al canale E noi ci vediamo In una prossima È Nuovissima Alberello Io vi faccio un nuovissimo video Ciao ragazzi Aspettate Ciao ragazzi Aspettate Ciao ragazzi Che basta Ciao ragazzi